Le donne a settimana vengono uccise, solo l'11% denuncia e il Molise in tal senso è tra le ultime regioni in Italia. Sono i freddi numeri del fenomeno della violenza di genere che nonostante un'importante campagna di sensibilizzazione restano ancora troppo alti. A Termoli, da settembre dello scorso anno, in via Monte Carlo 49 ha aperto il centro antiviolenza, gestito come quelli anche di Iserni e Campobasso dalla cooperativa Bifri. Una struttura che fa rete con l'ambito sociale di zona e non solo e dove ad accogliere le donne che cercano aiuto ci sono un'assistente sociale Anna Bombini, una psicologa Sara Fauzia e un'avvocato Tina De Michele. In questi sei mesi otto donne della zona si sono rivolte al centro spontaneamente, altre 15 ci sono arrivate attraverso la rete di servizi sociali del territorio. Colloqui di assistenza e psicologici, consulenza legale, accompagnamento nel percorso di fuoriuscita con l'obiettivo di capire che un altro modo di vivere è possibile, un altro modo di amare soprattutto è possibile. Oggi è un'occasione per invitare le donne a cercare di reagire alle situazioni difficili e quindi a non sentirsi sole perché veramente stiamo cercando di creare una rete di supporto e di appoggio per venire fuori dalle situazioni di violenza. Sono problematiche di tutti i tipi, penso per esempio ai maltrattamenti in famiglia, lo stalking e qualsiasi tipo di violenza che riguarda le donne purtroppo è anche la violenza assistita, ossia la violenza che coinvolge i minori. Quindi capite bene che sono problematiche molto molto delicate che necessitano di un approccio tecnico, di un approccio soprattutto multisfaccettato perché a volte non basta solo la consulenza legale, ci serve anche una consulenza psicologica, serve il supporto dei servizi territoriali e il raccordo fra tutti gli operatori che a valutitolo operano in quella che è la nostra società civile perché il percorso di fuoriuscita dalla violenza ha veramente molte sfaccettature e soprattutto non ha un approccio unico, deve essere valutato a seconda del caso. Il fenomeno della violenza sulle donne è complesso perché sono coinvolti diversi aspetti e diverse emozioni. La paura e il senso di colpa che insieme alla dipendenza economica e affettiva rendono difficile per le donne decidere di andare via, anche perché la maggior parte delle violenze avvengono tra le mura domestiche. L'equip del Centro Antiviolenza si interfaccia con i servizi territoriali coinvolti nell'intervento di contrasto alla violenza, pronto soccorso, forze dell'ordine, magistratura, servizi sociali, associazioni ed enti di aiuto alla persona. Un lavoro di rete che rappresenta il valore aggiunto per combattere la violenza sulle donne. La cosa interessante è che qui in Molise i CAV sono stati ubicati all'interno degli ambiti territoriali. È stata un'operazione lungimirante del legislatore regionale quella di calare il Centro Antiviolenza all'interno degli ambiti territoriali perché l'ambito è già una rete che si è costituita e realizzata, la rete dei territori, dei comuni, degli assistenti sociali del territorio e quindi la rete è in parte già avviata.